Sicuramente sì, mi è capitata qualche volta in passato. C'è un po' di rammarico perché abbiamo creato tanto, penso molto più di loro, e ci è mancato quel qualcosina davanti, un po' per sfortuna, magari un po' potevamo fare meglio noi. Però comunque sia dobbiamo guardare il lato positivo, la prestazione c'è stata, e quindi concentriamoci su quello, insomma ripartiamo da una buona base e sono sicuro che la prossima girerà meglio senza ombra il dubbio. Sì, ha fatto piacere perché penso che una partita come oggi di più non so cosa dovevamo fare. È bello che il pubblico l'abbia notato, ha visto che ce l'abbiamo messa tutta, che abbiamo creato tanto, che poi abbiamo avuto un po' di sfortuna, e quindi bene, fa piacere insomma. Un po' si sentiva la mancanza del calore degli ultrami, però giustamente insomma loro perpetuano la loro causa. Ma io penso che teniamo sempre la stessa linea, cerchiamo di andare in campo e di vincere tutte le partite di città. Ora ancora più spenseratamente, perché l'obiettivo principale è stato raggiunto, quindi cerchiamo di vincere tutte e basta, poi va come va.